Serve un po' di luce. Che c'è dall'altra parte del vetro? Le luci funzionano, e direi che abbiamo trovato l'hangar dei razzi. Forse mi servono degli occhiali nuovi, non vedo razzi. Pado, coberta. L'hangar è vuoto. Eh, merda. Se il razzo è stato spostato, ci deve essere una registrazione. Entrate nel sistema da una porta d'accesso, vediamo se Jack riesce a bypassare quel virus. Bene Jack, vediamo i registri. Ok, Jack mi ha collegato al mainframe. È del malware davvero ostile. Adattivo. Semisenziente. Niente panico, ci pensa Jack. Vero, amico. Nessun virus, ferma Jack. Arrivano i dati. Vado, suppongo tu riesca a leggerli. Sì, ma diversi sono criptati. Ok, l'ogiva del razzo è vicina. Ora la camera d'assemblaggio dall'altra parte dell'hangar. Ogiva? E il razzo? I satelliti del martello fanno parte dell'ogiva. Pensate a quello. Noi cerchiamo la posizione del razzo. Ricevuto. Delta, chiudo. Bene. Troviamo quei satelliti. Faza, tu sei un Vasgari. Devi leggere quei file. No, sono nato a Nuova e Fiera. I miei genitori non mi parlavano nemmeno Vasgari quando ero piccolo. Non volevano che sembrassimo diversi. Sì. Jack, prendi. Sì. Ok. E adesso? Portiamo quell'apparello piattaformoso di qua. Si chiama rampa. È così allora. E infatti? Questa è la maggiore, ma non è un'altra B. E non è un'altra B. Un'altra B. Porta qui! Finalmente qualcosa che so guidarmi! Forza ragazzi! Tutti a bordo! Forza, portaci di là! Con piacere! Una cosa bambini, ti ho detto che gli UIR hanno attaccato quella struttura e hanno provato a lanciare i nostri satelliti del mantello dell'alba Già Li ho guidati io Ah si? Perché? Per distruggere la COG Beh si, direi che è più In questi tempi sono un po' meno interessato a distruggere la COG Buono a sapersi Bene, andiamo! Di qua per i satelliti Dammi una mano Eh, non ci sono satelliti qui Cerchiamo ancora Pado, sono curioso Quanto è durato il vostro assedio a questo posto? Tre giorni Abbiamo attaccato quando il Premier Deschenko si è seduto con il vostro presidente per discutere l'armistizio Ci avete colpiti con il martello per primi Pensavamo fosse giusto contraccambiare Ok Ok No 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 È Ti vediamo! L'abbiamo fatti secchi. Ora, diamoci una mossa. Paduk, Berd, ci siamo imbattuti nello sciame, ma ora va tutto bene. E poi, Paduk, i COG che vi hanno martellati cinquant'anni fa, non siamo. Se lanciate quei satelliti, sarete condannati a ripetere gli stessi errori. Che dice la recluta? Ciao. 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 Ciao.